Dimenticate le pozze d'acqua infinita, perché nella mod di oggi scopriremo come sarebbe Minecraft se l'acqua fosse realistica. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova mod review della domenica. Ultimamente abbiamo visto un sacco di mod, ma anche un sacco di mod, che vanno a modificare la natura di Minecraft come fu per la mod della fisica realistica e come sarà oggi con la mod dell'acqua realistica. Partiamo subito facendovi capire di che cosa stiamo parlando. Se abbiamo un buco per terra, con un sacchio d'acqua noi possiamo riempirlo d'acqua, mentre con un sacchio vuoto possiamo togliere tutta l'acqua. E questa cosa non è cambiata, detto che in creativa il sacchio pieno e il sacchio vuoto ci permettono di spammare questa funzione all'infinito. Una delle cose fondamentali di Minecraft è la creazione della fonte d'acqua infinita, che di solito si fa mettendo una fonte d'acqua qui e una qui in un quadrato 2x2. Ma guardate che cosa succede. Se vado a mettere una secchiata, l'acqua si diffonde riempiendo tutti e quattro i blocchi, ma tenendo un livello basso. Se metto poi l'acqua dall'altra parte, succede di nuovo la stessa cosa, ma anziché creare una fonte d'acqua infinita, ha riempito metà dell'altezza del buco. Quindi solamente con altre due secchiate abbiamo la pozza d'acqua 2x2, che non dà acqua infinita. Questo perché con questa mod l'acqua si comporta davvero come un fluido realistico. Ovviamente non è come l'acqua della vita reale, però per dirla tutta, se andiamo a mettere una secchiata d'acqua per terra, non creerà una colata d'acqua infinita. Ma l'acqua si spalmerà creando una pozzanghera, che poi potremo togliere con una semplice secchiata. Grazie a questa meccanica potremo fare un sacco di cose nuove e davvero molto divertenti. Adesso ve le vado a spiegare tutte quante. Innanzitutto questa pozza non ci darà acqua infinita. Se andiamo a prendere una secchiata andiamo semplicemente a calare di nuovo il livello dell'acqua. Se rimettiamo l'acqua fino al livello massimo e diamo un'altra secchiata, l'acqua straborderà dal buco e quindi si diffonderà in giro. E se continuiamo a metterla sarà sempre più strabordante nel terreno attorno. Quindi possiamo ritogliere le pozzanghere e un'altra cosa che possiamo fare è mettere un blocco all'interno della pozza. Occupando lo spazio l'acqua non ci starà più e uscirà fuori. Se ritolgo il blocco l'acqua torna al suo posto e se amplio lo spazio facendo dei buchi, ovviamente l'acqua si diffonderà meglio e quindi il livello calerà. Una cosa interessante che è forse negativa in questo caso è che non esistono più le cascate. Perché le cascate di Minecraft come funzionano? Sono delle fonti d'acqua che escono da una parete della montagna. Quindi qui c'è un buco e c'è una fonte d'acqua che crea la cascata. Se metto in questo caso una fonte d'acqua, l'acqua colerà in questo modo e si andrà a spiattellare in giro. Ma non creerà una fonte infinita, quindi non c'è modo di creare cascate infinite. Essendo che l'acqua in questo caso è limitata, noi possiamo letteralmente svuotare una pozza d'acqua tirando secchiate. Ora ci vorrà un secolo, ma se notate dal bordo, l'acqua sta pian piano calando. E se continuassi così per un bel po' riuscirei a svuotare interamente l'intera pozza a secchiate. Ovviamente in survival la secchiata d'acqua tolta la dovrei mettere da qualche parte, non è che la posso far volatilizzare e basta. E se vi state domandando, ma Eren, a questo punto possiamo svuotare il mare? Sì, potete svuotare il mare. Provateci, non ce la farete mai, però tecnicamente potreste svuotare il mare. Ma Eren, questa cosa vale solamente per l'acqua o anche per la lava e quindi entrambi i fluidi di Minecraft? La risposta è vale anche per la lava. Anche la lava si comporta come l'acqua, quindi creando questa colata limitata. Che sarà interessante vedere come interagisce con l'acqua sotto. Vedete, il pietrisco si crea lo stesso, però è un po' strano da vedere. Ecco, questa parte della mod non è che mi convinca tantissimo. Quindi, allo stesso modo, noi possiamo fare così. L'acqua è solamente più lenta a colare. Come vedete, riempie più lentamente. Posso togliere, posso mettere, posso far strabordare la lava, eccetera, eccetera. Come vi ho già detto, possiamo fare tante cose davvero interessanti. Ad esempio, se mettiamo qui un bel pistone, che punta verso l'alto, con una sua leva e poi lo circondiamo di vetro e all'interno del vetro mettiamo una fonte d'acqua. Secondo voi cosa succede? Se attiviamo il pistone, l'acqua viene spinta fuori, distruggendo anche la leva, e viene proprio iettata fuori dal tubo. E questa cosa potrebbe dare il là a tante funzionalità interessanti, perché l'acqua si può spostare su e giù, può appunto uscire fuori. Peraltro, se esce fuori e va a rompere la leva, si crea una strana situazione dove il pistone, praticamente, a meno che non interagisci con i blocchi di fianco, rimane attivo, anche se non ha un input che lo attiva. Quindi, fun fact. Se al posto di far fuggire l'acqua dal nostro meccanismo la ingabbiamo in un tubo, possiamo, ad esempio, avere situazioni di questo tipo, dove, attivando il pistone, abbiamo diviso l'acqua in due blocchi. Qui ce n'è un po' meno, qui ce n'è un po' più. Però siamo riusciti a dividere un blocco d'acqua in due direzioni opposte. Questa meccanica è, anch'essa, sicuramente molto, molto interessante. Quindi, come state capendo, questa mod rivoluziona la meccanica dell'acqua e permette di fare cose nuove e di non poter fare cose vecchie. Considerate che è una mod in alfa, quindi non è definitiva, e ancora non vi ho detto tutto. Ho voluto dire ora che è in alfa perché magari alcune funzioni potranno essere cambiate. Ad esempio, i blocchi che non dovrebbero bloccare l'acqua, indovinate un po', non bloccano l'acqua. Ad esempio, le foglie hanno questa trasparenza, va bene, se ci metti l'acqua, l'acqua cola attraverso le foglie e scende di sotto. Quindi riesce a filtrare attraverso le foglie. Facciamo altri esempi, quindi per dire, se mettiamo una staccionata o un gate o qualcosa di questo tipo, secondo voi l'acqua verrà bloccata oppure no? Ovviamente l'acqua non viene bloccata e cola di sotto. Se mettiamo questa volta un cancello, l'acqua non viene bloccata. Proviamo a fare altri test, ad esempio una botola. La botola dovrebbe bloccarla anche se ha questi spazi. Vediamo cosa succede. Mettiamo l'acqua e l'acqua viene effettivamente bloccata. Però, attenzione, viene collezionata perfettamente dalla botola all'interno del blocco, in questo caso. In Minecraft normalmente non sarebbe entrata lì dentro l'acqua, perché il blocco era occupato nella parte inferiore dalla botola. E se aprissi la botola, scende di sotto. Che figata. Queste sono prove che sto facendo in diretta, non lo sapevo manco io. Mettiamo caso però che vogliamo proprio a tutti i costi fare una cascata. La cosa che più si avvicinerebbe sarebbe la seguente. Entriamo qui nella roccia, ci prendiamo magari una torcia perché sennò non vediamo un accidenti, e creiamo una camera piena d'acqua per poi farla sgorgare dalla parete. È molto comodo perché basta spreddare il bucket in un punto solo e pian piano si riempie, quindi non devo smattare per decidere dove mettere l'acqua. È molto semplice. Molto bene. E ora spacchiamo, magari prendendo il blocco giusto, e l'acqua inizierà a colare fuori. Guardate che figata. Ho creato la mia cascata, ma prima o poi questa cascata si svuoterà, perché l'acqua sta colando e sta andando giù nella vallata, se notate. Guardate che strano effetto che fa. E pian piano il buco all'interno si sta svuotando. Non appena si svuoterà tutto, la cascata non esisterà più. E tra poco succederà. Ecco qui che l'ultima goccia è scesa. Guardate l'acqua come se la sta viaggiando. Adesso pian piano andrà a ristagnare creando delle pozze, oppure se fosse stata di più avrebbe raggiunto quelle pozzanghere, le avrebbe riempite ancora di più. All'interno del buco è rimasta un po' d'acqua, che non riesce a defluire, perché è davvero pochissima. E viceversa. Proviamo invece a svuotare in maniera automatica un fiume, o parte di fiume. Qui sotto sembra esserci un canyon. Se noi andiamo a bucare questo, a parte che crolla tutto, il canyon verrà riempito dall'acqua del fiume, che lentamente sta defluendo all'interno del buco. Ora, è impossibile svuotare tutto il fiume. Guardate che casino sta facendo, ma il fiume insomma avrà origini da quella palude, forse da un mare addirittura. Però intanto vedete che qui pian piano si sta svuotando, e sta riempiendo tutto il canyon d'acqua. Tutte le caverne sotto si stanno allagando totalmente, riempite dal fiume. Che figata sta cosa. Non è fluidissima l'animazione, però devo dire che non fa laggare apparentemente. Quindi questa è una cosa molto interessante. E quindi questa è la mod dell'acqua realistica, che al momento è in alfa, è disponibile per 1.16.15, la trovate in download, in descrizione, come sempre. Spero che vi sia piaciuta, noi ci vediamo stasera in live, come sempre, e domani con un nuovo video. Un saluto da Eren, Ciao a tutti!